Questa immagine che vedete è una foto che ci ha mandato Gianluca, siamo in Antartide, è una foto di poche settimane fa, l'aereo è un po' più vecchio, una volta ne parleremo perché questo è un pilastro dell'aeronautica, questo aereo, però in Antartide le temperature scendono anche molto e c'è un aspetto che non va trascurato, diciamo subito che quando d'estate si parla la temperatura percepita che è più alta di quella si sente sulla pelle, non è vero niente, si tratta di temperature che si sopportano meglio o peggio a seconda dell'umidità, qui invece quando parliamo sul lato opposto del freddo abbiamo non un problema di percezione della temperatura, c'è una temperatura realmente diversa, vediamo un quadro che riassume con quattro numeri veramente la situazione, questo fenomeno si chiama wind chill, significa che quando la nostra pelle viene colpita da un vento più o meno freddo, la parte liquida e l'acqua che si trova sulla pelle, perché è umida comunque, non sembra, ma comunque è umida, evapora, questa evaporazione crea un abbassamento di temperatura reale, misurabile con un termometro non percepito o sentito, la prima prova la potete fare, ma la conoscete benissimo, se voi bagnate una mano e ci soffiate sopra sentite più freddo, perché? Perché l'acqua evapora e sottrae calore, quindi vi raffredda la pelle, ora in condizioni di 5 gradi, ho fatto tre esempi, 5 gradi calma di vento, la temperatura che si misura sulla vostra pelle è 5 gradi, se ci sono 10 nodi, circa 20 all'ora di vento, sulla vostra pelle la temperatura è di un grado, ma è di un grado reale, cioè se andate col termometro si misura questa temperatura, aumentando il vento si arriva a meno 1 o a meno 2 con 30 nodi, circa 50 all'ora, però guardate se si parte da 0 gradi si può arrivare a meno 8 col vento e se si parte da meno 5, temperatura che non è antartica, insomma in settimana bianca partire anche da meno 10, quindi capite di che parliamo, con un po' di vento, i soliti 10 nodi, 20 all'ora siamo già a meno 12 e con un vento più forte siamo a meno 15, calcolate che quando si va intorno ai meno 20 ci sono i primi segni di congelamento, almeno della parte superficiale della pelle. Può essere subdolo questo, perché magari se state sciando o se tenete un finestrino aperto uno non pensa di correre questo rischio, in realtà questo rischio si corre, quindi questo vale, ricordatevelo, solo per la pelle, basta coprirla con un guanto e questo effetto non c'è più, ma sulla pelle scoperta l'effetto di Windchill è di un reale abbassamento della temperatura sulla nostra pelle. In settimana bianca o anche se arriva questo grande freddo, insomma è sempre bene tenerne conto. Alla prossima!